Salve a tutti ragazzi, io sono Elstir ed in questo video cercheremo di approfondire in breve, per quanto ci è concesso con le attuali informazioni, una domanda estremamente importante. È stata Angerboda a chiamare il serpente del mondo in God of War 4 durante la famosa scena dove Kratos porta un malato Atreus da Freya per chiedere delle cure? Ovviamente il suo nome non è scelto a caso, come abbiamo potuto comprendere dal trailer di God of War 5, Angerboda è uno degli ultimi giganti Jotnar ancora in vita e dunque pare estremamente plausibile che sia stata lei a comunicare con Jormungand considerando che certamente conoscerà la lingua del serpente del mondo. In un video precedente avevo avanzato delle teorie su come fosse stato Loki, probabilmente proveniente dal futuro, a chiamare il serpente del mondo in tale circostanza, ma all'epoca nessuno era a conoscenza dell'esistenza di Angerboda. Non possiamo certamente stabilire conferme sul fatto che sia stata lei o meno, ma possiamo porci alcune questioni nel caso effettivamente vi sia lei dietro tale momento. Ci si deve chiedere infatti come ha fatto a viaggiare verso Midgard o se fosse già presente lì, cosa ha detto al serpente del mondo e per quale ragione. Non abbiamo idea di dove Angerboda risiedesse e di cosa si stesse occupando, ma sappiamo certamente che durante le vicende di God of War 4 lei fosse viva e vegeta sebbene nessuno forse lo sapesse. Assumendo che abbia viaggiato nel modo più sicuro e occulto possibile per evitare di essere vista da qualsiasi dell'idea Esir, precludo che sia stata capace di viaggiare verso Midgard partendo da Jotunheim, essendo il viaggio verso e da tale regno impossibile per via dell'assenza della torre necessaria per completare il viaggio. Possiamo certamente pensare a modi alternativi di viaggiare però, basta pensare a Tyr che tramite la pietra dell'unità poteva viaggiare verso Jotunheim anche senza l'accesso tramite l'albero del mondo. Non sarebbe strano pensare che Tyr abbia donato una reliquia simile anche ad Angerboda, consentendole di viaggiare e tornare al suo piacimento senza essere vista? Questa teoria non trova conferme, ma possiamo notare bene come Brock e Sindri siano in grado di spostarsi all'interno del reame senza troppi problemi e senza farsi notare. Dunque, perché Angerboda non dovrebbe possedere metodi simili? Alla fine risultare impercettibile a chiunque lei desideri ovviamente è la cosa fondamentale e ne va della sua stessa vita. Non sarebbe neanche azzardato pensare che Faye abbia concesso a Angerboda una magia capace di renderla non rilevabile dalle minacce, al pari degli alberi messi a modo di difesa della tranquillità della sua famiglia e di sé stessa attorno alla sua casa. Forse il metodo che l'ha tenuta nascosta ad ogni modo è quello che lei ha concesso di scappare da Jotunheim quando Thor ha massacrato la sua stirpe. Ammesso e concesso che sia stata lei l'unica a scappare in tale circostanza o che abbia mai visto Thor massacrare il Jotunheim. Quindi ad ogni modo non sembra difficile immaginare che Torre di Jotunheim o meno anche se Angerboda si fosse trovata nella sua presunta terra natia avrebbe potuto tranquillamente trovare un metodo per aggirare l'impossibilità di viaggiare tramite l'albero del mondo. Detto ciò non si capisce perché allora fare qualcosa del genere come suonare il corno. Il luogo dove risiede il corno è un luogo senza particolari protezioni quindi perché Angerboda se ha bisogno ovviamente di rimanere nell'ombra avrebbe mai cercato di mettersi così tanto allo scoperto. Chiunque avrebbe potuto notarla, magari un corvo di Odino, magari Baldur stesso trovandosi per caso nelle vicinanze. Perché Angerboda insomma cercherebbe di far crollare tutta la fatica fatta per tenerla nascosta in pochi secondi suonando il corno? Se lo ha fatto, sapendo i rischi che correva deve essere stato per una motivazione estremamente importante e valida, a tal punto da farla uscire allo scoperto e rischiare probabilmente la sua stessa vita. Non è una questione di poco conto perché appunto, considerando la rapidità con la quale Baldur si precipita a casa di Kratos, convinto di avere a che fare con degli Jotnar una volta abbattuti gli alberi che fungevano da protezione, non sembra stanno pensare che con la stessa rapidità qualcuno inizierebbe a cercare la persona che ha comunicato con un confermato nemico degli Eysir, ovvero gli Ormungand, all'aperto non di meno. Dunque direi di chiedersi cosa abbia mai avuto da dire al serpente del mondo di cosa importante e soprattutto perché. La mia personale teoria, come anche detto in altre occasioni, è che, a prescindere da chi abbia chiamato il serpente, la motivazione di tale scelta fosse legata ad aiutare Kratos ed Atreus a recuperare l'occhio della statua di Thor. Seguendo tale teoria, Angroboda avrebbe dunque contattato Jormungand per avvisarlo di quanto sarebbe accaduto in seguito, della venuta di Baldor appunto, e del ruolo che avrebbe avuto per la riuscita del successo della missione di Kratos ed Atreus. Il non sapere se Thor e Jormungand si siano già affrontati però complica un pochino la situazione, in quanto nell'opera si allude molto senza mai confermare a come la battaglia fra i due avverrà o sia già avvenuta e di come Jormungand dopo aver affrontato Thor forse sia stato colpito con così tanta violenza da aver viaggiato nel tempo per raggiungere il passato di Kratos ed Atreus. Infatti se Jormungand ha già affrontato Thor non ha bisogno di Angroboda o di chiunque altro per sapere cosa dovrà fare affinché le cose seguono il proprio corso. Già il fatto che egli inghiotta la statua di Thor in uno specifico momento del gioco dimostra come forse egli sappia esattamente quello che fa. Possiamo ipotizzare che tramite quell'azione egli abbia preservato la liquia contenuta nella statua affinché Kratos e Atreus potessero raccoglierla ed usarla in seguito. Però si potrebbe benissimo dire anche che nessuno avrebbe notato pensato alla reliquia sulla statua come elemento necessario per la riascita delle imprese di Kratos e Atreus essendo tale reliquia presente lì alla portata di chiunque per chissà quanto tempo e dunque indipendentemente dal loro di Jormungand Kratos e Atreus avrebbero ottenuto l'occhio necessario a Mimir per fungere la chiave per l'apertura del portale di Jotunheim senza troppi problemi. Ma non possiamo effettivamente sapere quanto attento fosse lo sguardo di Odino e quanto egli fosse in quel momento interessato alla faccenda in questione. Se la statua dunque fosse stata presente ancora al suo posto invece che mangiata dal serpente del mondo forse Odino o chi per lui avrebbe pensato all'influenza di tale reliquia per le intenzioni di Kratos cercando di impedirne il ritrovamento in qualche modo. In altri termini è impossibile misurare l'effettivo impatto della decisione di Jormungand di distruggere la statua ed inghiottirla ammettendo lui sapesse quello che faceva. Al massimo si può dire che egli abbia reso più sicuro o forse del tutto assicurato il ritrovamento della reliquia in questione e quanto appena detto potrebbe tranquillamente come già notato essere il vero fine della sua decisione di inghiottire la statua. Se Jormungand conosce già il corso degli eventi, Angerboda non gli ha certamente parlato di ciò durante la loro presunta conversazione, cioè non gli ha dato istruzioni su come si sarebbe dovuto comportare. Se invece la lotta fra Torre e il serpente del mondo non è avvenuta ancora nella timeline e non c'è nessun viaggio nel tempo, ciò vuol dire che Angerboda conosce meglio di molte persone l'esatto scorrere degli eventi, sebbene per l'appunto non sia un segreto così nascosto quello che avverrà durante il Ragnarok. Ammettendo che Angerboda sappia riguardo il futuro e Jormungand per nulla, si potrebbe dunque dire che Angerboda ha chiamato il serpente del mondo in tale frangente proprio in vista del fatto che lui abbia divorato la statua, per arginare le conseguenze scaturenti da questa scelta. Se lui non conosceva lo svolgersi dagli eventi e ha divorato la statua solo sulla base della rabbia, forse le sue azioni avrebbero impedito il ritrovamento dell'occhio, magari perché si sarebbe rifiutato di lasciare entrare Atreus e Kratos dentro il suo stomaco se non avvisato. O ancora, Angerboda ha preventivamente informato Jormungand di cosa sarebbe avvenuto una volta recuperato l'occhio, avvisandolo insomma dell'avvenuta di Baldur soltanto per metterlo a corrente di ciò, forse per informarlo del dolore che avrebbe dovuto patire o magari per impedire di reagire all'avvenuta di Baldur preservando la vita di Kratos e Atreus. Ponendo un minimo di attenzione all'evento in questione, ovvero al momento nel quale Baldur si precipita dal serpente del mondo per far uscire allo scoperto Kratos ed Atreus, è facilmente comprensibile la contraddizione fra la potenza che Jormungand dovrebbe possedere, essendo in grado di affrontare Thor e la semplicità con la quale Baldur riesce ad avere la meglio su di lui. Fa strano in poche parole vedere un essere capace di affrontare a pari livello Thor farsi cogliere così tanto la sprofista da Baldur. La spiegazione più plausibile sarebbe da ritrovare nella volontà di preservare l'incolumità di Kratos ed Atreus a prescindere, e affermare che Jormungand non ha voluto reagire perché appunto in quel momento aveva visite dentro di sé. Possiamo tuttavia anche affermare che magari non lo abbia fatto perché ha avvisato Dangboda di non farlo, altrimenti lui avrebbe certamente senza problemi mostrato la sua ira nei confronti di Baldur, e forse non si sarebbe fatto sconfiggere così facilmente, però probabilmente mettendo a rischio l'incolumità dei suoi amici se l'avesse fatto. Angboda dobbiamo supporre che saprebbe come far andare gli eventi nella giusta direzione, e dunque ha contattato il serpente del mondo affinché lui potesse esercitare il suo ruolo in tale faccenda. La risposta di Jormungand alla richiesta di lasciare entrare Kratos ed Atreus, quando appunto afferma come la cosa non gli piacerà affatto, sembrerebbe dare una piccola conferma di questa supposizione, anche se questo dettaglio confermo smentisce ben poco a ben vedere e a seconda di come lo si vuole interpretare. A cosa credere dunque? Vi sono altre possibilità da tenere in considerazione con quel poco che sappiamo? A mio dire vi sono ancora due aspetti di non poco in conto, ma su cui c'è ben poco da dire. Il primo riguarda la stranezza nel dover notare come a prescindere dall'identità di chiunque abbia suonato il corno in tale frangente e parlato con Jormungand, lui non dica nulla Kratos ed Atreus. L'identità di questa persona, che potrebbe essere Angerboda, viene comunque tenuta celata dal serpente del mondo, anche considerando che non viene data molta importanza alla cosa perché durante l'opera vi sono faccende molto più pressanti a cui badare, ma il fatto che Jormungand non dica nulla forse determina la volontà di una collaborazione fra i due a rimanere in segreto. È semplice notare che Jormungand non proteggerebbe certamente una persona con la quale non ha un certo rapporto, e certamente pochi possono discutere con lui. Sono uno Jotnar o Mimir, per quanto ne sappiamo sinora, ammettendo che non vi siano altri individui conoscenti la lingua degli Jotnar. Forse potrebbero parlarci Fei o Tyr, ma sappiamo bene come nessuno dei due possa avere compiuto una cosa del genere in quel frangente. Se Angerboda ha davvero parlato di aiutare Kratos ed Atreus con Jormungand, Jormungand non si fa scappare di aver parlato di loro con qualcun altro che ha favorito le loro faccende. La seconda cosa interessante da notare è il momento nel quale la chiamata avviene. Come già notato, il corno si trova in uno spazio aperto, quindi chiunque avrebbe potuto sentire Angerboda, come detto prima. Ma la chiamata avviene esattamente quando Atreus e Kratos lo potrebbero sentire, e più specificamente quando Atreus non sta bene e quindi solo Kratos o Mimir possono sapere della chiamata. C'è da chiedersi dunque se Angerboda o chiunque sia questo individuo abbia parlato con Serpente del Mondo proprio in quel frangente, proprio per via di quello che stava accadendo, il che confermerebbe la mia teoria esposta all'inizio video, oppure che si sia scelto quel momento perché Kratos ed Atreus non avrebbero potuto badare a ciò e quindi non si voleva essere scoperti da loro. Questo solleva anche la domanda su quante volte Jormungand sia stato interpellato da qualcuno a noi non noto, ma è molto sospetto notare che a parte che per ragioni narrative, il momento esatto nel quale Kratos deve occuparsi di suo figlio in maniera urgente corrisponda proprio al momento dove qualcuno vuole dialogare col Serpente del Mondo, probabilmente per parlare proprio di loro. Questo dimostrerebbe come Angerboda non voglia certamente rischiare di essere scoperta proprio da loro due e genererebbe anche nuove contraddizioni sulla volontà di rimanere all'oscuro da chiunque ma poi essere pronta a compiere un'azione del genere che la metta allo scoperto. Traendo delle conclusioni, mi pare corretto affermare come Angerboda sia la candidata ideale per aver chiamato Jormungand in tale momento, ma non è da dare per scontato notando le evidenti contraddizioni sollevate sulla sua figura. Certamente essendo uno Jotnar in vita, che ha quasi sicuramente un ruolo importante nel novecento di God of War 4, anche se non sappiamo quanto, non bisogna sottovalutare la sua importanza. Tuttavia non è ancora da escludere una terza figura. Non è assolutamente da dare per scontato che lei sia il solo Jotnar sopravvissuto e che magari vi sia una figura ancora non mostrata dietro quel momento, una figura che non teme di essere scoperta. Grazie a tutti.